Gentili telespettatori, buona giornata. Rivolta contro il sindaco Lepore del PD per la foto vergognosa. Ma quale sarebbe sta foto vergognosa? Vediamo. I cittadini si sono indignati perché Lepore pubblica, Lepore è il sindaco del PD di Bologna, una foto pubblica mentre in Emilia Romagna c'è l'alluvione. Bene, lui su Instagram pubblica la foto dove si vede un paio di scarpe infangate davanti al suo ufficio e lui scrive le scarpe riposano, il fango si secca ma questa giornata non si dimentica. Bene, qual è il problema? Le scarpe riposano, il fango si secca ma questa giornata non si dimentica. Secondo molti, molti, la scelta di esprimere così la solidarietà nei confronti della popolazione non va giù. C'è chi la definisce nacafonata, che il sindaco si poteva risparmiare. Insomma, se dobbiamo andare a guardare ogni singola parola che un politico scrive non ce la caviamo più, nel senso che nacafonata, le scarpe si seccano, la giornata non si dimentica. Diciamo che ha fatto la fotografia di un momento, arriva in ufficio, le scarpe infangate che si seccano, la giornata che non si dimentica. A me non sembra una cafonata, non mi sembra neanche un qualcosa che manchi di rispetto verso qualcuno o qualcosa. Lui ha fatto una fotografia istantanea di un momento della sua giornata. I social Instagram soprattutto, perché lui la pubblica su Instagram, Instagram è un social di fotografie. Quindi rappresenti e fai vedere agli altri la tua vita per mezzo di fotografie. Questo è Instagram. La tua vita per mezzo di fotografie. Quello che tu puoi far vedere agli altri. Non tutto, ma quello che tu per mezzo di fotografie vuoi far vedere agli altri. E lui il sindaco, per mezzo di Instagram, ha voluto far vedere una parte della sua giornata. Cari indignati, indignatori, indignanti, dovreste non indignarvi per le scarpe che si seccano dal fango. Dovreste indignarvi per chi quel fango un po' poteva farlo evitare, i cittadini facendo le cose. Quindi il sindaco del PD di Bologna, che fa seccare le scarpe, non avrà certo le stesse responsabilità di chi a capo della regione dovrà magari ai magistrati spiegare il perché. Tante cose non sono state fatte, perché tanti bacini erano fuori uso, oltre il 50%, perché i soldi non sono stati spesi. Quindi, insomma, magari più caffonate di questo tipo e meno lavori da compiere dall'altra parte. Ecco, quindi io non mi concentrerei sull'Instagram del sindaco di Bologna, ma io andrei a vedere cosa dice il responsabile della regione, il vicepresidente della regione, chi deve dare delle risposte. Andate a fare le pulci a chi è corresponsabile delle conseguenze di un alluvione, le conseguenze di un certo tipo. Non andare a guardare il sindaco di Bologna, Lepore, che mette la foto delle scarpe infangate. Potrà magari essere una cafonata secondo un certo punto di vista, no? Sotto una certa visuale può anche sembrare una cafonata. Però anche se fosse una cafonata, ci sono cose molto più serie da commentare che le presunte cafonate del sindaco. Io non ci vedo niente di male, però, ecco. Altri invece commentano sotto quelli che definiscono una cafonata e dicono «Le avvisaglie c'erano tutte. Siccità precedente, tombini mai puliti, edilizia selvaggia, dighe mai costruite. Chiedete la responsabilità dei cittadini, ma la responsabilità dei comuni dov'è? Con il sentimento si acchiappa il like, ma non si sistema ciò che andava fatto prima». Un altro scrive «No, guarda, le scarpe infangate no. La propaganda elettorale adesso no. Se il sindaco lavora e lascia stare Instagram è meglio». Ecco, se la vogliamo vedere sotto questo aspetto, meno foto poetiche delle scarpe infangate, ma al posto che la foto poetica, cosa hai fatto prima della foto poetica? Tu come sindaco sei a posto con la coscienza? Hai pulito i tombini? Hai pulito i letti dei fiumi? Hai cementato il meno possibile? Hai speso soldi, costruito argini, alzato gli argini o questi bacini laminati di retenzione? Ecco, quindi c'è anche da condividere chi dice «Hai fatto la foto poetica delle scarpe che si seccano?». Però prima delle scarpe che si seccano tu hai fatto tutto quello che dovevi fare? E ha anche ragione chi parla di propaganda. Ma cosa fai? Propaganda? Il sindaco con le scarpe infangate che si seccano? Il sindaco lavoratore? Ma sto sindaco lavoratore aveva fatto tutto quello che c'era da fare prima delle scarpe infangate? Questa è la domanda che fanno in tanti. Avrà capito? Beh, ho dei dubbi. Secondo me domani ci sarà un'altra foto di un altro paio di scarpe, metaforicamente parlando. La politica vive di propaganda e ricordatevi che fare prevenzione sulle alluvioni non porta voti perché non se ne accorge nessuno, non frega niente a nessuno di questo tema. Oggi se ne parlerà per un altro paio di giorni forse e poi non se ne parlerà più. Magari fra dieci giorni un'altra alluvione perché c'è un problema poi climatico, c'è un problema di questi temporali autorigeneranti che l'acqua del mare calda evapora, continua a evaporare con lo scontro con l'aria fredda, evapora e alimenta queste perturbazioni che persistono più del dovuto e scaricano molta acqua. Questo è il punto. Questo è il punto. L'uomo oggi non deve far altro che cercare di capire come attenuare questo. Oltre che agire sul clima, tentare di agire sul clima. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.